Buonasera a tutti, oggi è una data abbastanza importante, abbastanza importante perché dopo un bel po' di anni dall'entrata in vigore del testo unico 81 in materia di salute e sicurezza si dà compiutezza ad una parte abbastanza importante che però in tutti questi anni, sono otto anni, in realtà anzi sono sedici anni che non aveva avuto un'attuazione, un po' perché come dire le tematiche e le abbiamo visto in questo arco temporale sono abbastanza complesse e un po' perché diciamo dare specifico significato a quelle che è la professionalità e le capacità tecniche delle imprese è cosa forse sicuramente complicata, la qualificazione professionale, regolificazione tecnica. Il sistema poteva avere diverse soluzioni, il legislatore aveva immaginato l'articolo 27, questo della potente appunti che è un sistema premiale e non solo premiale, per dare come dire un'idea di questa capacità e attitudine tecnica professionale delle imprese, ma del resto e non a caso si comincia con il settore dell'edilizia, una delle garanzie, è banale dirlo, ma insomma per avere meno infortuni è che le imprese abbiano alti contenuti professionali, formazioni e capacità operative. Quante volte ci siamo lamentati che iscriversi e diventare imprenditore edile fino ad oggi era facilissimo, andare a Camera di Commercio, iscriversi, autodichiarare che sei un imprenditore edile e il giorno dopo cominciare ad operare. Non c'erano filtri, non c'erano grossi, come dire, elementi appunto di qualificazione. Oggi cominciamo ad averli e la patente a questo servono, ovviamente anche poi però anche a capire nel corso della gestione dell'attività d'impresa quali sono quegli elementi che possono andare a inficiare questa presunta capacità tecnico professionale delle imprese e fondamentalmente l'abbiamo visto, poi sono i fenomeni di andamento, i fenomeni infortunistici e le violazioni compiute da queste imprese nell'arco della loro vita, della loro attività. Come dire, cercare di tarare tutto questo in un procedimento normativo non è stato semplice, è stato fatto con equilibrio, è chiaro una cosa che qualche cautela il mondo imprenditoriale sta avendo, insomma sono forse timorosi, si legge dalle dichiarazioni stampa che possa essere un ostacolo, quantomeno un elemento che possa limitarne l'operatività. Invece pensiamo che se lo applichiamo bene e se diamo, diciamo così, il giusto peso anche all'interpretazione di quelle che sono le disposizioni normative che sono state introdotte sia dalla norma che tanti credo, ci auguriamo che possa in qualche modo funzionare. Io passerei la parola al Ministro e poi cominciamo a vedere come funziona l'accredito sul portale che è una cosa che poi è fondamentale e interessa tutte le aziende. Grazie, buonasera, buonasera a tutti, grazie al dottor Paolo Pennesi, il direttore dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ma grazie veramente a tutti coloro i quali oggi sono collegati per apprendere quelle che sono le prime modalità applicative della normativa sulla patente a crediti e soprattutto per condividere con noi quelle che sono le aspettative e gli obiettivi di quella che lo stesso Pennesi ha definito una riforma. Infatti questo è e di questo si tratta. Voglio ringraziare il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, i dirigenti che hanno insieme a noi, insieme al Ministero del Lavoro delle politiche sociali ai nostri uffici, condiviso un percorso che arriva oggi a un suo compimento con una piattaforma che avrà la sua piena operatività il primo di ottobre, ma sappiamo già che per effetto anche della circolare prontamente emanata dall'Ispettorato del Lavoro il 23 di settembre a fronte di un decreto ministeriale che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale la sera del 20 settembre può partire perché all'interno della circolare esplicativa ci sono quelli che sono non solo i contenuti della norma ma anche il percorso di accompagnamento alla realizzazione di quello che qualcuno può pensare essere un addempimento burocratico, ecco io vorrei invece dire che è un percorso che deve accompagnare a conseguire quello che per noi è un obiettivo strategico e importantissimo, cioè definire un sistema di qualificazione delle imprese e di valorizzazione di quelle imprese virtuose che hanno la capacità di fare investimenti e che mettono al centro della loro attività il lavoro e il lavoro sicuro. Qualcuno potrà dire ma cosa è cambiato rispetto al testo unico del 2008? Cambia il fatto che l'articolo 27 del testo unico 81 del 2008 prevedeva certamente la patente e che oggi noi ci siamo assunti la responsabilità dopo 16 anni di dargli attuazione, 16 anni inattuati in un provvedimento che veniva considerato centrale rispetto a quella che era la filosofia ed è la filosofia del testo unico, che era appunto il tema della qualificazione delle imprese e soprattutto anche del presidio in materia di sicurezza in settori che sono settori strategici e altamente delicati. Oggi noi partiamo con la patente a crediti per il settore dell'edilizia. Credete è stato certamente difficile anche adottare un provvedimento individuando un settore anziché un altro. E allora voglio dire una cosa ma voglio sottolinearla che questo per noi è l'avvio di un percorso che certamente poi ci dovrà portare ad estendere la patente a crediti ad altri settori che dovranno accogliere questo strumento per costruire quel percorso di qualificazione delle imprese che poi diventa in sostanza anche l'adempimento in cui ci si deve confrontare con quelle che sono le richieste della norma. La patente a crediti parte con un punteggio iniziale di tenente a crediti, però poi si arricchisce di quelle che sono delle condizioni soggettive che sono proprio legate alla storicità dell'azienda e quindi al percorso virtuoso fatto nell'ottemperare le norme e soprattutto nel non avere delle sanzioni invece rilevanti sul fronte degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nel lavoro. Però poi viene valorizzata anche la formazione. Vengono valorizzati tutti quei percorsi che poi portano a definire appunto una scelta di qualità che vuol dire anche costruire una qualificazione anche sulla base di percorsi e soprattutto di strategie che magari vanno oltre quello che è il mero addempimento e quindi la condizione minima che porta a essere osservanti rispetto alle norme di legge. Io ho iniziato dicendo che ringrazio il personale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, ringrazio anche il nucleo dei Carabinieri per la tutela del lavoro perché insieme state facendo un lavoro eccezionale anche sul fronte delle ispezioni. La patente a crediti ha una sua valenza, ma è all'interno di un percorso e soprattutto di una strategia che ci deve portare a valorizzare tutte quelle che sono le azioni a favore del lavoro regolare e a contrasto del lavoro irregolare, del lavoro sommerso e dello sfruttamento del lavoro. Allora accanto a questo importantissimo strumento abbiamo messo il potenziamento del personale ispettivo. Abbiamo sicuramente piacere oggi di rilevare anche che in servizio ci sono un buon numero di ispettori tecnici che si aggiungono a quelli che sono gli ispettori che erano nell'organico dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Certamente i numeri e la sproporzione delle forze in campo ci devono dire che anche inserire 800 nuovi ispettori tecnici, aggiungere altri 466 ispettori più altri 250 più 50 carabinieri più i 500 ispettori dell'Inps e dell'Inail non sarà mai sufficiente rispetto al numero delle aziende da ispezionare e delle aziende italiane in generale. E allora ecco che è importante da un lato certamente tutta l'attività ispettiva di contrasto ai fenomeni distorsivi del mondo del lavoro, però è altrettanto importante dotarsi di strumenti che poi favoriscano anche la compliance e quindi anche la responsabilità da parte delle imprese. Ecco perché oggi parliamo di patente accrediti, perché tutto ha una sua valenza e soprattutto nell'avere un inizio e una fine ha una sua logicità. Quindi questo è sicuramente un appuntamento importante, non è l'unico perché noi siamo tutti quanti impegnati, ci dobbiamo sentire ingaggiati nel favorire tutte quelle situazioni in cui riusciamo a fare promozione e soprattutto anche informazione sul corretto utilizzo e la corretta modalità per gestire quello che è l'adempimento in piattaforma. Piattaforma che nel corso dei mesi si arricchirà di tutte quelle altre informazioni aggiuntive che poi portano al arricchire la dotazione iniziale di crediti con quelle che sono invece, come dicevo prima, le fattispecie e quindi i casi specifici legati alla singola esperienza aziendale. Per noi è il completamento di una prima fase di percorso che è quella che ha portato all'emanazione del decreto ministeriale e poi della circolare dell'INL che ci ha visti impegnati in un confronto con le parti sociali, un confronto serrato, anche perché è evidente che un tema così importante anche per l'impatto sono quasi 900 mila i soggetti che oggi a vario titolo hanno un coinvolgimento nella normativa sulla patente a crediti in edilizia perché non sono solo le aziende edili quelle iscritte alla Camera di Commercio con il codice di attività, il codice ATECO relativo all'edilizia ma parliamo anche dei lavoratori autonomi e di tutti coloro i quali comunque hanno una interessenza e una correlazione con le attività di cantiere. Ecco che allora veramente si popola un mondo e soprattutto che quel mondo interagisce per mettere in campo una misura che deve essere una misura non statica ma invece estremamente dinamica perché poi verrà affidata alla gestione delle imprese che dovranno anche se vogliono adeguare quelli che sono i punteggi con tutte le certificazioni successive viene affidata al personale ispettivo che dovrà verificare anche la veridicità delle informazioni. Però detto una cosa giusta il dottor Pennesi ha sottolineato l'accompagnamento, ecco la circolare dell'ispettorato ha questa funzione, quella di delineare un percorso di accompagnamento in cui per noi è estremamente importante portare a bordo le aziende e soprattutto accompagnarle al corretto adempimento. Ecco perché è stata individuata una procedura transitoria che è anche una procedura di rassicurazione per chi magari può avere qualche difficoltà nell'approccio alla procedura informatica oppure ha bisogno di poter prendere confidenza con lo strumento e anche con la documentazione richiesta nel corso della fase di prima attuazione. Per quello è stata individuata anche l'autocertificazione e autodichiarazione che può essere trasmessa all'ispettorato tramite PEC e che dà poi la possibilità di completare la procedura entro il mese di ottobre perché lo spirito è proprio quello dell'accompagnamento e non certo quello di trovare lo strumento per elevare nuove sanzioni. In verità noi non abbiamo innovato nulla nel senso che tutti quelli che sono gli elementi che comporranno la patente a crediti sono obblighi già vigenti dall'introduzione del testo unico del 2008 e ancora prima per chi magari ha qualche anno in più rispetto ai giovani in questa sala che è il decreto legislativo 626 del 94. Non abbiamo cambiato l'ordine delle cose, non abbiamo aggiunto adempimenti in più, non abbiamo richiesto adempimenti e anche produzioni documentali che già non fossero all'interno della normativa sulla sicurezza oppure della normativa Palti. Mi riferisco ovviamente alla certificazione della regolarità contributiva e anche della regolarità fiscale. Anche in questo caso accompagneremo il percorso dando quelle che sono le giuste risposte affinché ci siano anche i chiarimenti necessari. Dai numeri che mi vengono dichiarati per quanto riguarda le PEC già arrivate alla casella appositamente attivata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro, io credo che il messaggio sia giunto a destinazione e il messaggio vuol dire adempiamo a questo processo e attiviamo questo processo sapendo di essere giustamente accompagnati.